Ricostruire e rafforzare rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione attraverso il canale della comunità digitale e quanto si propone il comune di Padula con il progetto Padula città digitale approvato con delibera di giunte con il quale l'amministrazione comunale intende tra l'altro aderire al progetto io della presidenza del consiglio dei ministri per lo sviluppo dell'app dei servizi pubblici per la cittadinanza digitale lo scopo è dare vita ad un'ampia semplificazione delle procedure amministrative e allo snellimento dei processi per superare alcune criticità legate ad esempio alla lentezza in caso di richiesta di un servizio alla distanza percepita tra amministrazione e cittadino alla lentezza della macchina amministrativa o all'intermediazione dell'amministrazione anche per richieste standard le azioni principali di Padula città digitale saranno infatti incentrate oltre che sull'adesione al progetto io anche sull'implementazione dello speed l'identità digitale favorendo l'erogazione di servizi ai cittadini e sul rafforzamento dei servizi pagopà si mira anche all'implementazione di modulistica online che consenta l'immediata attivazione dei procedimenti amministrativi e all'implementazione di un applicativo per la segnalazione di reclami e di servizi inoltre la strategia di digitalizzazione dell'amministrazione intende coinvolgere direttamente i più giovani e in particolare agli alunni del liceo scientifico Carlo Pisacane che rappresenteranno i modelli di sperimentazione e attueranno nell'ambito di azioni coordinate da parte del comune la formazione dei cittadini utenti